Vediamo quell'esibizione, vai! Col video delle prove, video delle prove! Ah, vediamo, durante la settimana hai provato... Qual è la ballerina professionista? Non ho provato moltissimo, non è se... Poco, diciamo! L'ho ballato, ho scegliato il mio partner per ballare, sai ballare? Sì! Fa vedere! Sai ballare? Dai, faccio una solo! Non vedo l'ora di essere qui per ballare, vado... Sei qui, sei già qui, non è che non vedi l'ora! No! Bene, vediamo che cosa... Dai, vuoi una base? Che c'hai, la guarda che c'ha... No, tira la fuori! Tira, tira la fuori! No! Guarda un po' che c'ha... C'ha gli appunti! Ma questo non è X-Ken, è lui l'attore Max... No, no, no... Sì, sì, sì... C'è la scaretta! Che cos'è che... Tadadam, cos'è? Tadadam! C'hai tutto scritto! Vai con la base! Base, vai con la base, vai! Vai con la base! Vai con la base! Fabio, Daniele... Non c'è la base! Perché è una base ultrasuoni! Tu non la senti! Fuori ci sono dei cani così! Beh, ci siamo! Ma ci siamo! Questo ci sei riuscito, eh! Allora! Per la mia esibizione farò una baciata... Una baciata basata su una linea melodica dei Metallica! No, è impossibile! C'è un vero in mezzo! Posso dire, guarda, la baciata è difficile perché devi fare... Ma che bello! Scrivici un libro! No 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 no! Un berco! Qua c'è? Qua! Qua!